Questa è la mia casa nel bosco. Tutti la strada nella nostra comunità sono strade? Questa è la mia casa nel bosco. Questa è la nostra aiuta, ma adesso in generale è totalmente secca. Normalmente è un fume, un fumento, fumenti, fumento? Non lo so, ma adesso è secca. Questa è Peacock Pass. Firmata dell'autobus. Stazione di Pompieri. Alcol è aperto per la musica. Questa è la mia casa. Questa è la mia casa. Questa è la mia casa. Per riunioni, musica, teatro, cinema, etc. La Piscina Comunale Questo è un soltano per Piscina Comunale Per questo ci sarà un lengo cotto forno per la pizza qui Questo è un grande forno per cucinare maiali interi Leonardo a casa mia Questo è il mio carmione e il mio compito Siamo di nuovo alla porta di casa mia Mi scuso perché il mio italiano non è perfetto Grazie per guardare questo video Grazie a tutti Grazie a tutti